amici tecnologici benvenuti in un nuovo video e allora oggi andremo a darvi qualche informazione sul corso di questa settimana cosa abbiamo fatto cosa intendiamo fare nelle prossime settimane e cosa ci diciamo aspettiamo per il futuro e allora per quanto riguarda questa ultima settimana possiamo essere molto ma molto contenti entusiasti e soddisfatti dalla vostra richiesta di informazioni sui nostri pacchi batteri all'idio per chi non lo sa possiamo andare a fornirvi pacchi batterie a litio con celle 18 650 ma anche con celle 21 700 in base al la richiesta effettiva in base all'uso effettivo in base agli spazi alle correnti allo scopo ecco di utilizzo jeff elettronica può fornirti pacchi batterie di come abbiamo detto tensioni differenti che vanno da 12 volt fino a circa 60 poi eventualmente su richieste più particolari anche con tensioni più alte e tutte le nostre batterie vengono testate realizzate con celle nuove nuove di buona qualità sottolineiamo i brand più richiesti in quest'ultima settimana sono stati gli lg sono state le samsung samsung da 3500 milliampere ora a cada una ma anche le panasonic ovviamente però le ultime samsung e panasonic sono quelle che costano di più perciò chi le sceglie e chi non ha problemi di budget o in alternativa chi ha diciamo una una richiesta specifica per esempio ha uno spazio disponibile molto piccolo e utilizzare celle più piccole perché i nostri standard sono da 2.500 milliampere ora noi con queste riusciamo a fare pacchi batterie che vanno dai 5 am per ora fino anche ai 20 30 40 am per ora di varie tensioni però il problema quale è che avendo una capacità piccola perciò 2.500 milliampere ora per fare un pacco molto grosso di capacità necessita di tantissime celle questo comporta un peso e un volume molto grande per chi invece a dimensioni disponibili strette qua degli spazi stretti dove andrà a posizionare la batteria o per chi non vuole trasportarsi con sé un grosso faldone pesante anche voluminoso c'è l'alternativa che quella delle batterie litio 186 50 samsung o panasonic parliamo sempre dei migliori brand attualmente in commercio attenzione non stiamo parlando di celle di bassa qualità perché ovviamente potremmo anche andare a realizzare qualche batteria con celle da 2000 con celle da 2002 milian per ora però a prescindere da tutto queste li abbiamo eliminati ne abbiamo scartare già in partenza è il nostro standard attuale è da 2005 in su fino a 3500 milian per ora per quanto riguarda le celle 18 650 stavo dicendo che in questi giorni stiamo ricevendo molte richieste di preventivi molti ordini la batteria più grossa richiesta questa settimana è una 48 volt 40 ampere ora realizzata ovviamente con celle samsung da 3500 milian per ora questo perché perché avendo già fatto un'offerta al cliente con celle di quelle diciamo da 2500 milian per ora e veniva un buon preventivo ecco molto accessibile infatti il problema non era quello del prezzo ma il cliente non la preferita perché 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 veniva molto più grande e molto più pesante della batteria ordinata che appunto quella con celle 18 650 samsung la cella samsung è quella il modello 35 inserisco nel video alcune foto alcune slide di un nostro pacco batterie venduto ad un cliente quest'altro pacco batterie è stato realizzato su commissione del cliente personalizzato completamente sia sulle dimensioni che sulla potenza che sulla capacità e anche sui connettori perché in commercio voi troverete batterie all'idio standard non modificabili non personalizzabili la nostra forza qual è quella di potervi realizzare fornirvi comodamente a casa vostra una batteria all'idio personalizzabile abbiamo detto personalizzabile in che cosa nelle dimensioni nella corrente di spunto della batteria nella capacità perciò gli amperora nelle celle utilizzate e nella cavetteria non solo diciamo i connettori ma anche nella lunghezza dei connettori questo perché perché vogliamo fornire al cliente è un prodotto realmente customizzato che non riuscirà e non riuscirebbe a trovare tanto facilmente commercio il tutto comodamente a casa sua perché spedizioni in tutta italia fino a circa due chili riusciamo a farvi la spedizione gratuita eventualmente se sono prodotti in promozione non sempre sono con spedizione gratuita oltre i due chili le spese di spedizione sono sempre a carico del cliente parliamo sempre di prodotti litio perciò fate attenzione perché parliamo di qualche batteria di qualità vedere già qui sotto in slide come vengono assemblate queste batterie vedete la polizia dei lavori vedete tutto l'ordine le saldature perfette le celle nuove però parliamo sempre di pacchi batteria gli ioni di litio consigliamo sempre di utilizzare il carica batterie in dotazione perché forniamo anche i vari carica batterie possiamo fornire carica batterie e quelli diciamo a carica standard carica veloce carica super speed che sono quelli ancora più veloci il tutto dipende dal vostro budget di spesa poi consigliamo sempre di non fare cortocircuito col pacco batterie perché signori miei stiamo parlando di batterie a litio che montano celle di qualità celle nuove che hanno correnti di spunto immediate e ad altissimi livelli perciò fare molta attenzione nei nostri pacchi batterie possiamo anche fornirle con fusibili di uscita di protezione tutto già precablato come abbiamo detto i connettori personalizzabili perché se tu devi andare a utilizzare questo pacco batterie come batterie di scorta nella tua bici nel tuo scooter o nel tuo monopattino elettrico o overboard avrai sicuramente già una batteria vecchia che ha un connettore tu devi rispettare ovviamente quei connettori per farla funzionare nel tuo mezzo di trasporto perciò quello che noi chiediamo sempre di comunicarci anche con foto anche con informazioni tramite mail i connettori in vostro possesso così noi da potervi fornire la batteria compatibile al cento per cento con la vostra elettronica poi cos'altro volevo dirvi le celle si le celle sono samsung panasonic lg altri brand tutte nuove le nostre batterie hanno tutte l'elettronica a bordo che controlla il carico lo scarico cella per cella anche delle protezioni come eventualmente overcharger cioè oltre la carica o low charger cioè sotto il livello di carica vi raccomandiamo o sempre di non abbandonare il pacco batterie per mesi e mesi senza ricaricarlo perché è possibile anche che si deterano internamente le celle vi consigliamo comunque almeno una volta a mese di fargli fare una ricarica anche se non la utilizzate altre informazioni non me ne viene rivedo possiamo fornire pacchi batterie da 12 da 24 da 36 da 48 da 60 e anche oltre 60 volt come capacità dipende dalla vostra necessità per esempio 5 ampere ora 8 ampere ora 7 ampere ora 10 ampere ora 12 ampere 15 20 25 30 40 50 50 100 100 ampere ora tutto sta in base a dove dovete utilizzarla allo spazio che avete e cosa volete spendere niente per questo video è tutto vi ringrazio la nostra mail di contatto egf punto elettronica che ho c'era live punto e ti se il video ti è piaciuto se le foto ti sono piaciute metti un like commenta sotto se hai domande e niente al prossimo video ciao grazie 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 grazie